Sono passati due mesi dall'inizio della raccolta delle firme, il sostegno del referendum di riforma dell'attuale legge elettorale, mi sento di rivolgere un appello a tutti i cittadini affinché si stringono intorno al Comitato Promotore e a tutti coloro i quali volontari sul territorio stanno raccogliendo queste firme per riuscire a raggiungere l'obiettivo delle 500.000 firme nazionali. A Palermo abbiamo già conseguito un buon risultato nei primi due mesi ma serve dare il massimo in questi ultimi giorni e proprio per questo abbiamo pensato insieme a tutto il Comitato Promotore, a Beppe Vicari che sostiene anche queste iniziative personalmente e con i supporti che anche voi avete modo di incontrare su internet, di organizzare per sabato 22 giugno, cioè domani a partire dalle ore 10 alla spiaggia di Mondello un Beach Day, cioè un giorno in cui i nostri volontari, io stesso, Beppe e tutti gli altri ci troveremo per le strade di Mondello a distribuire il materiale informativo e raccogliere le firme di chi crede ancora nella possibilità di modificare l'attuale sistema elettorale e di modificarlo in funzione di un recupero di efficienza del sistema politico, di una maggiore trasparenza, di una maggiore capacità di ascolto della classe politica che ritorni ad essere reale rappresentanza dei bisogni, delle esigenze, delle ambizioni e dei sogni dei cittadini questa è la battaglia di civiltà che stiamo portando avanti con il Comitato Promotore e Referendario questo è quello che crediamo sia doveroso porre al centro dell'attività politica e culturale italiana questo è l'appello che mi sento di rivolgere, ci sentiamo di rivolgere tutti voi speriamo domani di ritrovarvi numerosi per Mondello a sostenere le nostre ragioni, le ragioni di tutti gli italiani le ragioni di un buon sistema democratico occidentale, moderno, liberale e fortemente trasparente grazie ancora